venerdì 10 maggio buongiorno ben ritrovati puntuali come sempre per il nostro consueto appuntamento del mattino la rassegna stampa il nostro consueto giro delle prime pagine per vedere cosa ci propongono i quotidiani in edicola stamane vediamo quali sono le anticipazioni sui temi caldi gli argomenti principali di oggi cominciamo subito il nostro giro lo facciamo partendo dal quotidiano la sicilia tra le altre cose si parla anche di cultura festa del teatro a jace apre stasera siracusa la stagione dell'inda spot per la sicilia natalità studenti contro il ministro roccella la ministra contestata a lungo e costretta ad andare via e poi ovviamente sbotta io censurata solidarietà immediata da parte di mattarella e della presidente giorgio meloni e a proposito della presidente mattarella ha parlato del premierato la costituzione ha dichiarato il capo dello stato e di tutti e va difesa l'inchiesta di genova fratelli d'italia teme l'effetto toti sulle europee il nodo dei finanziamenti ai partiti in taglio laterale ponte sullo stretto rinvio a settembre la società ha chiesto tempo per rispondere sos invece da catania campagna secco contro la siccità opere strutturali e non più mance allarme criminalità a sommatino si ripete il rito delle fucilate contro l'auto del sindaco temo per la famiglia ha dichiarato il primo cittadino vaccino astrazeneca in pensione giustizia per i nostri parenti morti l'onda lunga della pandemia covid scrive la sicilia e a proposito di covid dagli stati uniti una nuova variante buca l'immunità ma attenzione niente allarmismi in taglio alto il calcio 2000 tifosi ieri allo stadio al fianco del catania i playoff sono un'occasione unica dunque il popolo rossazzurro si stringe attorno alla squadra di zeoli protagonista di una stagione tutt'altro che esaltante ma c'è comunque un playoff da disputare e nel calcio dunque mai dire mai in bocca al lupo al catania giro delle città partendo proprio da catania neonato morto condannati due medici ercolano ricorso pm pg a giugno c'è l'appello calta girone bilancio riequilibrato ce lo chiede il consiglio mentre la funivia di taormina è sicura ma resta chiusa fino al 13 lasciamo il quotidiano la sicilia ci spostiamo adesso sul giornale di sicilia che apre con questo preciso argomento le chiavi la discesa la sfissia si parla ovviamente delle indagini sulla tragedia di casteldaccia questi operai morti sul posto di lavoro ai raggi x il ruolo dei del direttore dei lavori presente sul luogo della strage l'autopsia conferma gli operai sono tutti morti in pochi secondi per aver inalato idrogeno solforato e ancora sono state restituite vedete le salme ai parenti ci saranno funerali separati le seguie da domani altre sezioni dedicate sempre a questa importante e purtroppo tragica vicenda il ferito riconosce moglie e figlio è ancora ricoverato in terapia intensiva al policlinico prosegue dunque la lotta di domenico viola scrive il giornale di sicilia una legge permette di assumere i familiari come ammineo fu applicata dopo la sciagura nel catanese con sei vittime nel 2008 e a proposito di tragiche notizie guardate un po' cos'è successo a noto una città sotto shock bimba di dieci mesi muore per avere ingerito della candeggina proteste a roma il ministro zittito interviene mattarella e eugenia roccella contestata dagli studenti nella capitale e poi di spalla la cronaca confiscati i beni del boss mario marchese si parla di beni per un milione di euro e dunque tutto passa nelle mani dello stato boss marchese deceduto nel 2016 bagheria in tre contro un ventenne pestato a sangue e poi l'emergenza siccità piove ma non basta agricoltura in ginocchio in taglio alto il calcio oggi in campo il palermo con il sud tirol per difendere il sesto posto mentre per quanto riguarda il super bonus 110 per cento il governo precisa il super bonus in dieci anni solo per le spese del 2024 ponte sullo stretto la società stretto di messina chiede più tempo chiarimenti al ministero a settembre restiamo ancora nell'isola con la prima pagina della gazzetta del sud l'edizione di messina che apre proprio con il ponte sullo stretto la società vedete chiede più tempo necessaria una sospensione di 120 giorni per presentare documenti integrativi al ministero dell'ambiente i chiarimenti arriveranno ma non prima della metà di settembre altre notizie da messina verso i lavori della tramvia e la viale diventa una vera isola cantiere al via a fine mese e poi un incidente sul lungolago sempre a messina un autobus finisce contro una staccionata un ferito non grave ma parecchi danni caso toti si ipotizza finanziamento illecito genova nell'inchiesta per corruzione spuntano i nomi di altri imprenditori pressing adesso dell'opposizione che chiede le dimissioni della governatore toti imbarazzo nel centro destra proseguiamo con la nostra rassegna stampa vediamo la prima pagina dell'edizione di palermo della quotidiano la repubblica la parentopoli dello zoo profilattico sfilata di cognati e nipoti nell'istituto regionale che funziona come un ufficio di collocamento e partono vedete le prime interrogazioni in senato e all'ars ma in primissimo piano c'è la strage di casteldaccia i misteri del cantiere per adesso un solo avviso di garanzia ma l'inchiesta sulla tragedia degli operai può estendersi nel mirino i legami fra le due aziende incaricate dall'amap commesse ovunque e lavoratori con qualifiche basse parla il giudice calega più vincoli per i subappalti a cascata mentre sono state restituite le salme degli operai deceduti in questa vera e propria tragedia pioggia e lacrime vedete sul dolore dei parenti ce li hanno uccisi questo il grido di disperazione dei parenti di questi sfortunati lavoratori a proposito di lavoro compensi tagliati rider di globo sul piede di guerra scioperiamo questa la minaccia tra virgolette chiaramente da parte dei rider e poi la congresso a palermo capitale della giustizia con mille magistrati si tratta del 36esimo congresso dell'associazione nazionale magistrati il fenomeno mito miti e business stagione da record per i teatri antichi e poi altra notizia dall'etna a favignana la sicilia si scopre isola del gin lasciamo repubblica palermo vediamo cosa ci propone il quotidiano la repubblica ovviamente parliamo dell'edizione nazionale sotto i riflettori l'inchiesta di genova la cassaforte di toti questo il titolo la procura indaga su oltre 2 milioni di euro versati nell'arco di sette anni da imprenditori al governatore della liguria fratelli d'italia e forza italia mettono nel mirino la gestione degli appalti del ministro salvini e il record di finanziamenti privati alla lega mattarella invece difende la costituzione scritta con saggezza ed è attuale ha precisato il capo dello stato stati generali della natalità a roma la ministra roccella contestata dagli studenti abbandona il forum sono stata censurata poi dichiarato la ministra il corriere della sera vedete apre proprio con questo argomento roccella contestata ed è bufera io censurata queste le parole del ministro il colle e contro la civiltà meloni parla invece di uno show ignobile un gruppo di studenti impedisce l'intervento agli stati generali della natalità solidale il centrodestra distinguo a sinistra cronaca invece da milano gravissimo un poliziotto che è stato accoltellato tensione tra il sindaco sala il governo e se è stato fatto poco ha detto il sindaco la replica strumentalizza arrestato un magrebino che doveva essere espulso andiamo avanti con la nostra rassegna abbiamo tante prime pagine ancora da vedere insieme questa ad esempio è la prima pagina della quotidiano il giornale la roccella zittita mattarella e gli incivili ministra contestata agli stati generali della natalità solidarietà da parte di giorgia meloni e del colle netaniao invece snob biden avanti senza l'aiuto degli stati uniti basta armi se entrate a raffa questo questa la posizione degli stati uniti ma vedete netaniao appunto snobba il pensiero e la posizione della presidente biden milano invece sotto shock una città fuori controllo agente accoltellato un immigrato aggredisce un poliziotto che è grave e il sindaco sala scarica la colpa titola il quotidiano il giornale questa invece la prima pagina del fatto quotidiano la sai l'ultima se fatturi le mazzette non è reato la difesa toti intanto la nuova accusa è finanziamento illecito e salvini temerixi colucci pagava pure la lega il presidente voleva entrare in fratelli d'italia o in forza italia spinelli dopo i favori il mio gruppo ora vale un miliardo andiamo avanti lasciamo il fatto quotidiano questa è la prima pagina del quotidiano la stampa le parole tra le altre cose di conte il leader del movimento 5 stelle a genova il ritorno di tangentopoli le parole dell'ex premier il ministro crosetto intanto attacca i pm con questa logica dice appunto il ministro si arrestano anche i giudici mattarella sempre libertà di parola il presidente alla lapide di moro non mi esprimo sulle modifiche ma la costituzione fu scritta con saggezza natalità invece roccella contestata lascia la sala io censurata dove sono i difensori di scurati e poi le parole di rashdi meloni sia meno infantile le parole di rashdi al salone del libro di torino la nazione apre con la contestazione alla ministra roccella studenti contro vedete io sono stata censurata un gruppo di liceali interrompe gli stati generali della natalità la ministra costretta a lasciare il palco volevano mettermi a tacere solidarietà da mattarella meloni maggioranza e renzi dem divisi la sinistra parla soltanto di dissenso intervista all'ex deputata pd concia un boomerang queste invece le sue parole matteo agli agenti pago la cauzione il giovane pestato dalla polizia negli stati uniti spunta un nuovo video tagliani in aula soddisfatto della risposta americana e poi la prima pagina di libero che apre con la cronaca da milano agente accoltellato clima d'odio su di noi polizia contro la sinistra l'aggressore clandestino in italia da 22 anni sala lancia accuse al governo ma i sindacati lo smascherano ci hanno lasciati soli i versetti savianici il salone del libro inizia con le critiche di rashdi alla meloni questa la stoccata in questo caso del quotidiano libero parliamo di sport andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani ovviamente tanto calcio tanta Europa perché c'è un'altra italiana finalista di una competizione europea dopo la fiorentina in conference anche l'atalanta in europa league e 2 titola la gazzetta storica atalanta dea in finale in europa league dopo la fiorentina in conference non ce l'ha fatta purtroppo la roma che ha soltanto sfiorato l'impresa roma che aveva ribaltato il 2 a 0 dell'andata all'olimpico contro il bayern vinceva per 2 a 0 all'everkusen poi però la rimonta dei tedeschi e allora il 2 a 2 finale qualifica appunto il bayern che sfiderà l'atalanta di gasperini dalla gazzetta al corriere dello sport opus dea euro league gasperini vince 3 a 0 beffa invece per de rossi dal 2 a 0 al 2 a 2 atalanta spaziale una finale storica roma l'impresa sfuma su autogol perché perché la roma dicevamo vinceva al 2 a 0 poi un autogol sfortunato da l'inf appunto al bayern che trova il gol del 2 a 1 e alla fine riuscirà anche a pareggiare chiudiamo con tutto sport atalanta sogno finale roma così è tremendo europa league il 22 maggio a dublino l'atalanta sfiderà il bayern l'everkusen alex del piero invece benedice il diz vedete l'incontro a casa juve salta il talento turco che ha incontrato appunto uno dei grandi campioni della storia juventina ovvero alex del piero ci fermiamo qui chiudiamo questa rassegna stampa odierna partiamo però a breve con tutte le nostre edizioni di spazio notizia per aggiornarvi lungo questo venerdì e allora l'invito non cambia rimanete con noi a dopo notizia per aggiornarvi lungo questo venerdì e allora l'invito non cambia rimanete con noi a